Edizione provinciale che apriamo con una notizia di cronaca giudiziaria che arriva dal territorio barese perché sarebbe indagato anche per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale l'ex assessore del comune di Grumo Appula nel barese appunto il trentenne Nicolarella in carcere dal 4 agosto scorso con l'accusa di estorsione per aver preteso intascato una tangente di 5 mila euro dal titolare della ditta che si occupa della raccolta di fiuti in città. L'inchiesta sul presunto voto di scambio riguarderebbe fatti relativi alle ultime elezioni amministrative del comune di Grumo nel settembre 2020 quando Lella è stato eletto consigliere comunale poi nominato assessore alla nettezza urbana e all'urbanistica. Nell'ordinanza d'arresto sulla presunta estorsione la giudice descrive la personalità dell'indagato gravato da un precedente specifico risalente al 2013 e la GIP con riferimento all'ultima vicenda evidenzia poi la particolare scaltrezza di Lella nel perseguire i propri scopi illeciti per aver prospettato allo scopo di non lasciare traccia del proprio operato. Il ricorso a bitcoin per il pagamento utilizzando applicazioni come telegram tali da assicurare per loro natura la sottrazione al monitoraggio e contato su una fitta rete di agganci da lui manovrabili. Nell'inchiesta risulta indagato anche un imprenditore Vito Partipilo presunto complice dell'ex assessore per il quale sono stati disposti gli arresti domiciliari. Cambiamo argomento parliamo dell'ennesima aggressione nelle carceri pugliesi un agente della polizia penitenziaria in servizio nell'istituto di Foggia è rimasto ferito per bloccare l'evasione di un detenuto. Lo comunica Pasquale Montesano segretario generale dell'OSAP un detenuto con problemi psichiatrici ha ricostruito il sindacalista durante l'ora d'aria ha scavalcato il muro dei passeggi del reparto reclusione per atterrare nell'intercinta dove ha incontrato un poliziotto che coraggiosamente lo ha bloccato. Secondo quanto riferito da Montesano il poliziotto ha subito una frattura di una costola e guarirà in 30 giorni. Il dirigente sindacale denuncia la gravissima situazione in cui versano le carceri pugliesi non ultima quella di Foggia il cui sovraffollamento ha superato di gran lunga la soglia di guardia e una grave e sistematica violazione dei diritti umani. Pertanto Montesano spera che giungano dalla politica e da tutte le articolazioni di governo immediati non più rinviabili forme, linea, ruolo e i compiti della polizia penitenziaria. Restiamo incapitanata perché la provincia di Foggia rischia la desertificazione degli uffici giudiziari e lanciare l'allarme l'onorevole Angiola che si rivolge al ministro Cartabia. In provincia di Foggia si registra una carenza di uffici giudiziari e quanto denuncia l'onorevole Nunzio Angiola di azione. Sette in meno dopo la riforma del 2012. Tutto ciò spiega Angiola nonostante il circondario del Tribunale di Foggia abbia una grande estensione 7.400 km2 superando quella del Molise nel quale operano tre tribunali. Inoltre ci sono tre comuni rientranti nella provincia di Bat che fanno riferimento al circondario giudiziario foggiano ovvero Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli. Questo l'appello dell'onorevole Angiola in aula rivolto alla ministra Cartabia. La provincia di Foggia signora ministra si caratterizza, lo dice il CSM in una delibera del 18-10 del 2017 per una criminalità composita e violenta, un'illegalità diffusa che condiziona l'operato della pubblica amministrazione. Si è prodotta una vera e propria desertificazione giudiziaria ed è stato compromesso il diritto di accesso alla giustizia soprattutto per gli abitanti dei comuni più lontani dalla città di Foggia. Per questo motivo in considerazione che il piano nazionale di ripresa e resilienza chiede efficienza e vicinanza ai bisogni della popolazione dal punto di vista dell'amministrazione e della giustizia e prevede lo stanziamento di 2,3 miliardi per l'innovazione organizzativa del sistema giudiziario, ecco chiedo veramente un atto di responsabilità, ho completato da parte del governo, rivedendo e decida lei signora Ministra i modi e i tempi in cui farlo, su questo non ci esprimiamo, di rivedere la geografia giudiziaria e soprattutto la situazione della provincia di Foggia. Dalle ASL infermieri per le RSA sprovviste di personale, la Giunta regionale pugliese ha approvato la delibera che consente la collaborazione tra RSA, centri diurni e ASL per garantire la presenza di infermieri nelle residenze sanitarie assistenziali. Si tratta di un provvedimento che mira a evitare, come accaduto durante la prima ondata della pandemia, che le RSA possano restare sguarnite. Traguardo proposto e tenacemente sostenuto dalla nostra associazione, dichiara Antonio Perrugini, presidente di Welfare Levante, che rappresenta in Puglia le RSA. Con questo provvedimento approvato dalla Giunta regionale pugliese ieri, le RSA e i centri diurni potranno usufruire della figura dell'infermiere pur essendo dipendente delle ASL attraverso una convenzione che assicura appunto il requisito organizzativo per queste strutture che come sappiamo hanno lottato a mani nude durante il periodo della pandemia che è ancora in corso. In caso di necessità le ASL manderanno nelle RSA i propri infermieri e il costo verrà sottratto dai rimborsi che le stesse ASL riconoscono alle RSA. Esprimo soddisfazione, conclude Perrugini, per la continuità del dialogo con la regione Puglia e l'impegno mantenuto dal presidente Emiliano e dall'assessore alla salute Lopalco con il supporto dell'intera struttura tecnica dell'assessorato. Le attività sociosanitarie delle RSA e centri diurni sono fondamentali per la tenuta dell'intero sistema. Noi esprimiamo soddisfazione per questo e auspichiamo il proficuo dialogo con le istituzioni in Regione Puglia in primis poiché le RSA svolgono un'attività di protezione e assistenza fondamentale per l'intera tenuta del sistema. Colgo l'occasione per rinnovare fiducia affinché il settore venga valorizzato e venga tenuto sempre più in considerazione. Ora il prossimo passo saranno le conferme dei titoli autorizzativi, degli accreditamenti e l'applicazione delle nuove tariffe. Siamo nel Barese, da settembre via i lavori al centro tecnologico di Bitonto. Al secondo piano nasceranno sale studio attrezzate per i ragazzi. Vediamo. Parte un nuovo cantiere del comune di Bitonto a settembre che si aggiunge ai nove in corso sempre grazie a un finanziamento intercettato con la città metropolitana. È il turno del centro tecnologico della città che si trova nella zona artigianale e che si apre sempre più ai cittadini con la ristrutturazione del secondo piano. Questa nuova ala dell'edificio offrirà nuovi corsi di formazione e le sale studio attrezzate per i giovani che avranno così una loro casa per approfondire conoscenze e scambi di opinioni. Un polo studentesco che dopo aver accolto corsi di specializzazione universitaria e aver messo a disposizione laboratori artigianali 2.0 con Fab Lab adesso amplia l'offerta e le opportunità. La notizia del finanziamento del centro tecnologico che comporta l'espansione su un altro piano ci dà la possibilità di aprire un cantiere importante già dalla prima settimana di settembre con dei finanziamenti intercettati con la città metropolitana di Bari. Nove aule studio saranno aperte per i nostri ragazzi saranno aperte dal centro tecnologico comunale che oltre ad essere un esempio di eccellenza è conclamato per tutto il territorio regionale l'unico centro di eccellenza universitario Fab Lab con il Politecnico di Bari del Mezzogiorno con un Politecnico in generale del Mezzogiorno adesso si apre non solo agli studenti universitari ma a tutti gli studenti dando quello che hanno sempre voluto dalla propria città una casa per condividere le loro esperienze le loro conoscenze e avere la possibilità poi di studiare in ambienti attrezzati con personal computer con un impianto di climatizzazione e con un contatto diretto in questo caso anche con dei laboratori didattici e con laboratori artigianali perché nel Fab Lab del Comune di Bitonto si realizzano attraverso delle attrezzature tecnologicamente avanzate diversi manufatti in tanti materiali diversi che vengono progettati dai ragazzi direttamente al computer mi sembra un grande passo in avanti per una inaugurazione che attendiamo di fare entro aprile dell'anno prossimo Dopo l'ennesimo incidente mortale sul lavoro avvenuto ieri nel Foggiano in particolare a San Giovanni Rotondo dove un operario 47enne è rimasto schiacciato da una lastra di cemento il consigliere regionale del PD Francesco Paolicelli ha chiesto che venga autorizzata quanto prima un'audizione nelle commissioni consigliari sul tema emergenza sicurezza sul lavoro sono stati invitati per essere ascoltati i segretari generali pugliesi di CGL Cisle Will il presidente di Confindustria Puglia il presidente di Ance Puglia la morte dell'operaio Alessandro Rosciano avvenuta proprio nella città di San Pio spiega Paolicelli è l'ultima tragedia in ordine di tempo e si aggiunge la lunga scia di morti bianche che come cittadini e rappresentanti delle istituzioni non possiamo più tollerare quanto mai opportuno e prioritario avviare un confronto tra le istituzioni e le organizzazioni sindacali per questo ha detto ho chiesto alla presidente del Consiglio regionale Loredana Capone molto attenta al tema l'autorizzazione per l'audizione di tutti i rappresentanti dei sindacati della regione Puglia i presidenti di Confindustria Puglia e dell'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili della Puglia l'obiettivo è tutelare le persone che lavorano che sono prima di tutto padri e madri di famiglia andiamo avanti parliamo ancora di lavoro perché dopo mesi di estenuanti trattative è stato finalmente firmato il contratto provinciale degli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Foggia che riguarda anche i comuni di Margherita di Savoia San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli un contratto che mette d'accordo sindacati e parti datoriali e che punta all'innovazione nei temi strettamente contrattuali e di comparto dopo vari mesi di trattative è stato finalmente firmato il contratto provinciale degli operatori agricoli e florovivaisti della provincia di Foggia e dei comuni di Margherita di Savoia San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli un contratto fortemente innovativo nei temi contrattuali e di comparto come dimostra il focus sulle differenze di genere così come la sensibilizzazione sul tema della violenza sui luoghi di lavoro a cui sono dedicate assemblee specifiche previsto un aumento contrattuale del 2% a partire dal 1 agosto 2021 in un'unica tranche l'inserimento di welfare agricolo attraverso misure sostenute dall'ente bilaterale come il sostegno alla maternità e allo studio per i lavoratori agricoli presente anche il rilancio dell'osservatorio provinciale a cui è stata affidata la verifica formale di determinate condizioni volte ad assicurare stabilità occupazionale e sostenibilità economica per le imprese che investono nella crescita e nel consolidamento delle giornate lavorative in maniera regolare e trasparente e per le aziende che vivono difficoltà di mercato strutturali a cui il tavolo ha dato un forte sostegno proprio per il rilancio delle imprese che hanno subito calamità o un forte calo di fatturato istituita anche la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale che garantirà la prevenzione di incidenti sul lavoro un contratto che arriva dopo mesi di confronto in un territorio dove l'agricoltura rappresenta il settore trainante dell'economia crisi che al sud è più profonda mentre il paese prova a ripartire con l'aiuto dei fondi europei le regioni del mezzogiorno tra cui la nostra Puglia hanno grandi difficoltà a farlo servono scelte strutturate e tanta competenza per mettere a frutto le risorse l'allarme dell'economista Giuseppe Coco sentiamo Il paese riparte il sud meno nonostante maggiori interventi per arginare la crisi le ragioni risiedono tutte nelle esportazioni e negli investimenti l'occupazione è langue gli investimenti privati sono crollati nel sud a un punto tale che da un decennio stiamo decumulando stock di capitale a ritmi considerevoli l'allarme dell'economista Giuseppe Coco Aumenterà il divario nei prossimi anni? In una qualche maniera questa è una domanda cruciale ma non la più cruciale perché il divario sta aumentando in un contesto in cui l'Italia non cresce più quindi il mezzogiorno regredisce e quali sono le ragioni per il divario e per la stasi dell'Italia? Sostanzialmente sono le stesse non investiamo più su noi stessi né in capitale fisico che è crollato durante la grande crisi né in capitale umano che è sostanzialmente stazionario ma molto minore dell'investimento che effettuano tutti gli altri paesi europei Nel mezzogiorno poi c'è un problema particolare il capitale fisico ed umano effettivamente si sta deteriorando a un tasso molto veloce non investiamo più in capitale fisico nemmeno nel settore privato e infatti la ripresa è molto lenta anche per questo e soprattutto abbiamo chiuso le scuole e spiegabilmente il doppio delle regioni settentrionali segno probabilmente che non abbiamo una coscienza dell'importanza della scuola nei prossimi anni arriverà una valanga di finanziamenti dal PNRR 80 miliardi in sei anni contemporaneamente avremo probabilmente circa 120 miliardi dei fondi della coesione si tratta di una montagna di risorse enorme per gestire le quali però servono capacità straordinarie e progetti importanti progetti che vadano oltre il pure elemento finanziario ne saremo capaci? A Bari una singolare iniziativa culturale nell'ambito degli eventi organizzati dal Comune per la Festa del Mare 2021 un'esposizione di opere d'arte sulla facciata di Palazzo di Città Le opere di 11 artisti internazionali esposte sulla facciata di Palazzo di Città si chiama Minimum Standard ed è la prima iniziativa dell'Associazione Culturale Voga che inaugura così un percorso volto a porre Bari al centro delle ricerche in atto nel panorama culturale mediterraneo sul fronte artistico sviluppato in collaborazione con alcuni spazi di ricerca e gallerie di paesi che si affacciano sul mediterraneo il progetto presenta opere di artisti locali internazionali in forma di stendardo in una mostra collettiva allestita sulla facciata principale del Palazzo di Città a Bari il progetto è stato realizzato nel contesto della Festa del Mare 2021 grazie al sostegno dell'Assessorato alle Culture del Comune di Bari e alla Regione Puglia e queste 13 opere rappresentano l'espressione artistica di 13 paesi che si affacciano sul nostro bacino del Mediterraneo quando abbiamo per la prima volta condiviso questo progetto abbiamo pensato che fosse coerente con la Festa del Mare perché è su quel mare che media le terre che abbiamo evidentemente a cui abbiamo chiesto agli artisti di esprimersi e loro stavano già lavorando a questo progetto di ricerca così importante che vede anche la presenza di un artista barese il titolo dell'opera è Sgorbio praticamente ho riportato sullo standard una porzione di Palazzo Andidero e su questa porzione ho voluto in qualche modo mostrare tutti quei conflitti presenti all'interno della città che hanno portato questo palazzo in 40 anni allo stato attuale è davvero stata una strategia per cominciare e iniziare ad attivare sinergia con le istituzioni e col tessuto produttivo necessario per svolgere progetti arte contemporanea è un piccolo progetto che speriamo ne porti tanti altri molto presto e in merito alla sospensione delle pubblicazioni della Gazzetta del Mezzogiorno l'Arcivescovo di Bari Bitonto Monsignor Satriano ha lanciato un appello alle istituzioni affinché intervengano ci manca possiamo dirlo senza tema di smentita la Gazzetta del Mezzogiorno ci manca così sua eccellenza Monsignor Giuseppe Satriano Arcivescovo di Bari Bitonto in merito alla sospensione della pubblicazione della Gazzetta del Mezzogiorno l'assenza dall'edicola del giornale di Puglia e Basilicata rappresenta un danno per questi nostri territori prosegue l'Arcivescovo la settimana appena trascorsa è stata densa di eventi internazionali con ricadute anche locali la sospensione della pubblicazione della Gazzetta sta creando un buco nella memoria storica della nostra comunità ha aggiunto Monsignor Satriano con la Gazzetta del Mezzogiorno e l'interruzione dell'annuale rassegna della Fiera del Levante rinviata al prossimo anno registriamo la mancanza di pilastri fondamentali per la città di Bari e per il nostro sud tutto questo conclude Monsignor Satriano deve farci riflettere se da un lato manifestiamo come chiesa vicinanza a chi si trova senza un lavoro dall'altro lanciamo un appello affinché lontani da ogni retorica si ponga attenzione al bene comune da parte di tutte le forze istituzionali sociali e culturali Bari è una delle dieci città inserite dal Ministero della Salute tra i centri da Bolino Rosso per il caldo torrido è il momento più difficile dell'anno soprattutto per gli anziani temperature alte e AFA la Puglia stretta nella morsa del caldo torrido per la settimana di ferragosto c'è anche Bari tra le città contrassegnate con il bollino rosso del Ministero della Salute che indica il massimo livello di rischio per la salute Bari Campobasso Rieti e Roma a partire da oggi per tre giorni di fila avranno il bollino rosso l'elevato tasso di umidità rende tutto più difficile in particolare per le persone anziane costrette a fronteggiare il momento per loro più difficile dell'anno no ma sto bene ne so fatti tutti e due facili capito ho fatto tutti e due e mi sento bene capito grazie il signore quindi non ci fa niente uno che è abituato da bambino non ci fa niente capito proprio da bambino raccoglie sono arrivato a 70 anni questo è il mio ricordo da bambino vedi come era ecco fa giovedere come era 50 anni fa era 50 anni fa mi chiamavano maciste a bar non sto scherzando una forza invulnerabile mi sento bene devo camminare rigazziamo il signore fa troppo caldo e non conviene stare mentre alla strada ho sbagliato adesso mi vado a ritirare subito cioè non si può vivere così il giorno è la notte peggio del giorno è assurdo non lo so dobbiamo trovare una soluzione come fare mi dica lei sono anni che non dormiamo insieme abbiamo messo in separazione si fa col fa col è un'estate anomala non lo so non si capisce bene nella storia degli estati che abbiamo avuto a Bari non ho mai visto un'estate di picchi ma non continuamente dal 14 aprile che penso che non piove quindi ma non so che dobbiamo fare potrei stare pure a casa però si si vuole la gente da comunicare quale atteggiamento adottare dunque per fronteggiare l'afa che rende l'aria irrespirabile lo abbiamo chiesto ad un esperto non uscire nelle ore più calde per cui di recarsi negli esercizi commerciali in prima mattinata e qualora vengano qui in farmacia e hanno problemi di debolezza di astenia le integratori a base di magnesio e potassio e in taluni casi anche a base di vitamine e sali minerali Grande successo a Vieste per la ventesima edizione del Festival Il Libro Possibile sbarcata per la prima volta nel noto comune Garganico che ha ospitato vari artisti di spessore da Vittorio Sgarbi a Piero Pelù passando per Roberto Saviano questo è il punto di vista dei turisti e dei Viestani Riempie veramente proprio anche il cuore ti fa rinascere perché ti accultura in modo diverso da uno all'altro in pratica non hanno un filo logico però ognuno ha un qualcosa che ti fortifica Io sono di Vieste per noi questa serata è importante sembra un punto di ripartenza speriamo bene ripartire all'aperto cercare di recuperare un anno dove ci siamo eravamo su una nuvola ci bello di così è in sicurezza siamo distanziati mascherina una cosa fantastica non avrei mai immaginato che un fatto di cultura di questo livello avrebbe avuto in tempo di vacanza tanto successo peraltro la quantità di pubblico presente dice il successo che ha avuto la gente apprezza e bisogna insomma sempre puntare al massimo e penso che questa organizzazione da parte del comune sia veramente una buonissima idea è interessante e soprattutto per noi giovani che insomma al di fuori di questo contesto studiamo veniamo qui è veramente un qualcosa di importante per la società e ci dovrebbero essere più amministrazioni che fanno questo lavoro a Gravina nel parco dell'Alta Murgia concerto e visite guidate sentiamo un celebre pianista e sullo sfondo un oiazzo antica struttura rurale che testimonia la transumanza nel parco dell'Alta Murgia Ludovico Einaudi ha incantato i fans giunti soprattutto da fuori regione in un concerto andato sold out poche ore dall'annuncio ad accompagnare il maestro nel parco dell'Alta Murgia di Gravina re di Asa e Federico Mecozzi che hanno scandito a ritmo di viola violoncello e violino le melodie della pianoforte 7 days walking 7 giorni di cammino questo è il titolo del progetto musicale con cui Einaudi ha affascinato il pubblico un album unico ma suddiviso in 7 diversi episodi intorno ad un percorso immaginario l'evento si è svolto con il supporto delle guide ufficiali del parco dell'Alta Murgia che hanno condotto i fans per una passeggiata naturalistica prima del concerto fino al 15 settembre tutti gli studenti iscritti all'università di Bari possono vaccinarsi contro il covid senza prenotazione l'accesso è infatti libero in tutti gli hub della ASL gli studenti spiegano dall'azienda sanitaria possono presentarsi nel centro vaccinale più vicino muniti di carta d'identità tessera sanitaria certificato di iscrizione o tesserino universitario il calendario con i giorni e gli orari di apertura degli hub è consultabile sul sito dell'ASL Bari la giunta della regione Puglia ha approvato una delibera per definire in via sperimentale un calendario annuale delle chiusure degli esercizi commerciali nelle festività nazionali al quale gli operatori economici si potranno uniformare i giorni di chiusura previsti dalla delibera sono il 15 agosto 25 e 26 dicembre primo gennaio 17 aprile 25 aprile e primo maggio la proposta ha incontrato il favore di tutti i sindacati e delle associazioni di categoria più rappresentative fatta eccezione per Feder Distribuzione che ha espresso assoluta contrarietà prosegue l'enorme afflusso di pazienti nei pronto soccorso pugliesi sempre più allo stremo dopo il record registrato il 3 agosto con 3.124 accessi la situazione non è migliorata è stata superata ancora la soglia dei 3.000 ammalati anche il 4 6 e 7 agosto mentre il 5 e il 9 gli interventi sanitari sono stati rispettivamente 2.959 2.908 alla quarta ondata covid si sta sommando l'emergenza caldo che sta provocando malori tra anziani e fragili l'aumento di accessi è nell'ordine di 400 in più rispetto a luglio per far fronte al carico di lavoro il governatore Michele Emiliano ha firmato un'ordinanza che permette ai direttori generali di Asle e ospedali di potenziare gli organici con l'aiuto dei medici di medicina generale e se necessario con medici già in pensione ordinanza però contestata dalle organizzazioni sindacali restate con noi perché tra poco c'è lo sport tutti Grazie a tutti.